Il Lago d'Italia è chiamato Nilo Azzurro, rappresenta il 90% del Nilo egeziano e tutti i due negli vanno al nord separati finché si incontrano Al Khartoum, capitale del Sudan, con il nome del Nilo, arrivando in Egitto, dalla nascita alla diga dell'Egitto, all'altra diga, 5200 km. La profondità dell'acqua è 111 metri, questa è una forma triangolare, la larghezza da sotto è 980 metri, in cima è solo 40 metri. Ho iniziato il lavoro nell'anno 60, nell'anno 64 ho dato il lavoro ancora più difficile, il peso della vita vale 17 volte, che ho detto questo era la sfida. Il Lago d'Italia Il Lago d'Italia